A Rimini, tanti crimini. Basta aggiungere una C al nome della cittadina romagnola ed ecco che si forma una parola che non piace a nessuno. Secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Rimini è seconda in Italia per pericolosità preceduta da Milano. Il parametro preso come riferimento è l'incidenza dei crimini commessi. La capitale romagnola delle vacanze conquista un primato non invidiabile, nonostante il dispiegamento delle forze dell'ordine e gli importanti risultati raggiunti per esempio nella lotta contro l'abusivismo commerciale o contro la microcriminalità. Nella classifica dopo Rimini troviamo Bologna, Torino e Roma. Firenze al settimo posto, Ravenna all'ottavo. Napoli, ritenuta spesso poco sicura, si piazza invece al trentaseiesimo posto. Fanalino di Coda è quindi città più sicura d'Italia e Matera che, protetta forse dai suoi sassi, occupa la centoseiesima posizione.